Il sogno, l'hanno già detto Leonardo e Giovanna, è il lavoro in rete. Infatti, da quattro anni, quando mi hanno chiesto questo servizio, penso che è stata la parola più ripetuta, almeno da parte mia e dell'equip del sociale, lavorare in rete. Con l'Italia ho imparato tantissimo, io ringrazio tantissimo Salesiani per il sociale, Francesco, Don Elio, che mi hanno dato l'opportunità di conoscere l'Italia salesiana nel sociale. Io posso dire qua che ho nel cuore, in Sicilia, Santa Chiara a Palermo, San Gregorio a Catania, Foggia, sono stato due volte a Foggia, il Redentore a Bari, e posso parlare di Borgo Ragazzi Don Bosco, di Firenze Scandici, di Livorno, conosco Cassale Monferrato, conosco Valdoco, Gorizia, Arezze, tantissime case nella nostra realtà salesiana, ma che anche lavorano con delle associazioni. Io ho imparato come salesiano a capire che cosa è l'associazionismo salesiano del quale parla il quadro di riferimento della nostra pastorale quando sono arrivato in Italia, perché noi in altre realtà abbiamo un'altra concezione di quello che è l'associazionismo. Invece l'associazionismo che abbiamo imparato dall'Italia è un'azione reale e vera di quello che voi parlate, che è quella capacità di lavorare con un senso di generatività, ma organizzato anche sul civile, e proporre dalla società verso gli altri. Ma c'è una grande difficoltà che ho trovato nella congregazione e vi devo dire che anche un po' in Italia che al mio modo di vedere siete molto in avanti e molto organizzati. Per me la grande testimonianza è questo. Una cultura del report, della rendicontazione, questo è importantissimo. Questo non esiste in tante altre realtà, almeno della nostra congregazione. Alcune cifre. Siamo presenti in 136 nazioni. In questi giorni, non lo so, questo non è per bantarci, perché è per il callo che soffriamo nella Chiesa, in questi giorni, in numeri, siamo un po' di più i salesiani che i gesuiti. E loro, non è per fare comparazioni brutte, perché loro hanno la nostra ammirazione e il nostro rispetto, ma, continuo, loro sono presenti in 100 nazioni, noi in 136 e il prossimo anno saremo in 138. Loro sono 60 ispettorie, noi 94 ispettorie. Sì? E abbiamo dato il passo a capire che dobbiamo lavorare con i laici e che i laici possono portare avanti il carisma che non viene sequestrato da noi religiosi. infatti, come lo dicevo, lo ricordo benissimo, anche un anno fa, in questa stessa assemblea, infatti, nel sociale, molto miglior portato avanti da parte dei laici che da noi religiosi, che vi ammiriamo tanto e vogliamo camminare accanto a voi. ma anche ho visto qua in Italia con tutte queste visite che con la grande potenzialità di lavoro in rete che voi avete e che forse le case, anche se comprendo, capisco che in Italia ci sono delle regioni, la legislazione, la normativa, le associazioni, una casa, famiglia, che lavora in una regione non si parla con l'altra casa di famiglia nell'altra regione e siamo la stessa famiglia salesiana e siamo le stesse associazioni che rapportiamo qua insieme, che rendicontiamo insieme, si dice, qua. e questi numeri sono belli perché ci portano almeno, almeno, a due grandi cose. Prima, avere una capacità di negoziazione con chi? Per esempio con i sindaci, sì? Non è lo stesso chiedere che negoziare perché abbiamo un impatto di generatività nella nostra società. E dopo l'advocacy. Sì? La capacità di accompagnare la creazione di politiche pubbliche, la capacità di far visibile i diritti che sono vulnerati per i ragazzi e per le famiglie e per l'intera società. Questo ancora in Italia non lo vedo. Ci manca un cammino grande. Ma, ve lo dico, siete quelli che sono più in avanti nella nostra congregazione. Allora, raccolgo qualche informazione. Vi ho fatto questa piccola comparazione con i gesuiti. Noi siamo in 136 nazioni. Non in tutte le nazioni abbiamo CFP, non in tutte le nazioni abbiamo parrocchie, non in tutte le nazioni abbiamo università o scuola, ma in tutte abbiamo opere sociali. questo vuol dire che le opere sociali dentro la congregazione salesiana sono il settore più grande, più stesso della nostra congregazione. Ma dopo se andiamo a vedere il diritto proprio della congregazione salesiana che è nata come un'opera sociale perché Don Bosco era un santo sociale di Torino nella congregazione salesiana nei regolamenti le opere sociali non appaiono. Appaiono tutti gli altri settori tranne le opere sociali. Allora di diritto di diritto almeno di diritto noi non siamo un settore formale nella congregazione. Questo già ci parla anche della pochissima capacità che abbiamo di lavorare in rete tra di noi.